A giugno 2016 sono stati registrati 496.379 occupati in Abruzzo, con un aumento di 15.000 unità rispetto al precedente trimestre e 28.000 unità rispetto a giugno 2015. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 13,6% di giugno 2015 all'11,5% di giugno 2016 e quanto emerso dalle ultime rilevazioni Istat sull'occupazione, dati salutati con soddisfazione dal presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. La nostra produzione industriale è in netta ripresa, ha detto il governatore, così come le nostre esportazioni. Siamo una regione con una robusta forza industriale che deriva dal nostro saper fare, la quarta regione in Italia per la qualità della funzione amministrativa nel rapporto tra tasse pagate e qualità dei servizi, dopo Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia. Non intendiamo cullarci sugli allori, ha aggiunto, continueremo a intensificare l'opera di cambiamento e rilancio dell'Abruzzo. Mancano all'appello 50.000 occasioni di lavoro, soprattutto per i più giovani, e vogliamo determinare le condizioni affinché le imprese che vogliono creare occupazione possano farlo trovando opportunità e convenienza. Sono circa 3 miliardi di euro le risorse che l'Abruzzo avrà a disposizione nei prossimi anni con il Masterplan, il PSR, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Garanzia Giovani e il programma straordinario pluriannale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia a modernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Inoltre, la cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha assegnato all'Abruzzo ulteriori 456 milioni per la depurazione delle acque, il dissesto idrogeologico e per interventi infrastrutturali.